Niente della stampa, James Reed è stato trovato morto. Ora che se n'è andato, mi accorgo che non ho fatto niente di buono nella mia vita. Vuoi vedere una cosa forte? Abbiamo sprecato il nostro potenziale. La città ha bisogno di aiuto. Come lavoro prima facevo il sensitivo. Ascolti, tutto ciò che avevo, io l'ho perduto. Se hai paura di essere rimasto solo, sta tranquillo. Non sei solo. Alcuni indizi farebbero pensare alla banda vallanzasca. Non ti accorgi, io farlo scivolare. C'è chi nasce a Scarafaggio, chi scienziato, chi Santa Maria Teresa di Calcutta. Io sono nato per fare il ladro. Per la prima volta sono gli altri ad alzare gli occhi per guardarlo. E finalmente ora può emergere. I blefuschiani attaccano! Salve ragazzi, vengo in pace. Fuoco! I fantastici viaggi di Gulliver. Zalone! Vi cerco la tela di Santa Teresa. Senti, perché c'ho questo sguardo? È per l'estasi. Si trovava. Ehi ragazzi, sono Checco Zalone. Vi aspetto al cinema con Che Bella Giornata. Nostro figlio nasce questo venerdì. Come pensi di tornare? Ehi, ti va di venire con noi? Crisi scongiurata, sono in macchina. Staremo insieme per qualche giorno, non ci farebbe male conoscerci meglio. Disprezzo la tua persona a livello neuronale. A mio marito si richiede... Si richiede di parlare in pubblico. Non sono qui per parlare di faccende personali. Perché siete qui allora? Perché Balbetto è la nazione! La guerra con la Germania si farà. E ci occorrerà un re dietro il quale schierarci. A paura della sua ombra. Sarò il pazzo re Giorgio il balbuziente. Alzatevi! Non potete sedere lì! Alzatevi! Perché no? È una sedia. Dimenticate il resto e ditelo solo a me. Onda Calabra, qualunque mente, se c'è pilo non ci manca proprio niente. Onda Calabra... Spessante... Curiosamente curiosa, la vicenda è capitata a 26 alunni di un liceo romano. Dopo 20 anni, pensate, il loro esame di maturità è stato annullato e a quanto pare lo dovranno rifare. Sti figlio è una mignotta. Ogni matrimonio si fonda sul tradimento. Tu sai che vi assomigliate tantissimo? Maschilista porco. Tricchettona frigida. Un uomo a 40 anni diventa interessante. Una donna, quando arriva il primo cappello bianco, inizia l'inferno. Io penso che il tuo pisello sia andato in pensione anticipata. Non succederà più. Un uomo a 40 anni diventa.